Lunedì scorso parlando di De Laurentiis ha detto che ogni tanto borbotta per i suoi cambi, ma non ci ha detto se a lei dà fastidio quando borbotta per i suoi cambi? E la seconda cosa che le chiedo, dal suo punto di vista, il futuro a Napoli suo è già scritto, non c'è bisogno di rivedersi a Pinali? Allora, il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli, il mio futuro si chiama Empoli, tutto il resto ci sarà tempo per parlarne. Poi quando siamo a bocce ferme da ultimo, però non sono importanti, sono questi cinque risultati che sono davanti a noi e noi dobbiamo puntare alla vittoria perché ci abbiamo sempre creduto, perché io ci credo, perché i tifosi ci credono, perché il Napoli ci deve credere, per cui si punta alle vittorie delle partite. Spazio a Napoli, ultima. Mi dà fastidio De Laurentiis? No, non mi ha fastidio perché è una cosa che lui probabilmente è abituato a fare, come fanno tanti, però come ho detto già prima, con il senno di poi è troppo facile avere ragione sui cambi, anche qui mi prendo la colpa di aver immaginato dei cambi e qualcosa di quello che avevo immaginato poi non si è verificato, per cui è una cosa naturale. Sono io che faccio la formazione, sono io che faccio le scelte, purtroppo. E sono io che faccio bene o che sbaglio, insomma.